allora faccio un ripasso dell'unità 3 e poi gli esercizi vediamo se mi ricordo qualcosa allora qua è partito, si lì è partito va bene Gatai, fare fatica a fare qualcosa ok per tre anni essermi allenato, aver fatto esercizi con tutti i giorni è un pensiero che non faccio fatica a dimenticare Eiano Serio Shinagara, mentre metteva a posto la stanza questo costava tanto e quindi è uno spreco questo me l'ha regalato un amico e quindi faccio fatica a buttarlo quindi faccio fatica a buttarli entrambi Goshi Notokini, quando vi stavo trasferendo Nagane, Sundai e Dakara Ciotto Anare Gatai e Kimo Surne Kimo Surne, si per lunghi anni, era casa dove ho abitato per tanti anni e penso di far fatica ad allontanarmi a lasciarla sarebbe Enai, Ari Enai Patashiga, Shuo Moranante, Ari Enai era Shuo Sho? Io ricevere un premio è impossibile questo qua l'avevo segnato che non me lo ricordavo l'altra volta non mi ricordo neanche adesso niente, adesso ho saltato l'altra volta Cacchio, sono finito questo sono andato grazie a tutti in giro, pardon 5 premi e premi non me lo ricordo adesso Grazie a tutti Grazie a tutti E' successa una cosa che non ci potevamo aspettare Però siamo rimasti tutti calmi Io so che dovrebbe essere La sapevo l'altra volta Adesso c'ho il dubbio O io so o io so Io so C'è una cosa imprevista Non normale che non era prevista Però se è troppo O essere più del normale Questo cos'era? Kofun? Invece me lo ricordo Kofun Ero troppo emozionato Dall'emozione mi sono dimenticato di fare la foto Mia mamma per essersi troppo preoccupata per me Si è ammalata praticamente Quando si tratta di bambini Mi preoccupo più di me stesso Lui normalmente è uno molto silenzioso Ma quando si sale sulla montagna Cioè quando scaliamo le montagne All'improvviso inizia a parlare Obento Tsukuru Oga Keisai Teikidashi Karada Moikedo Mainichi Koto no Naruto Taien Kamoshirenai Farsi la schiscetta Prepararsi la schiscetta È economicamente meglio E fa bene anche al corpo Ma farlo tutti i giorni È una rottura di Marones Su Tsuharu Qualcosa ha fatto? Cambiato? Allora Kotoshi ni Aite Eiki wa Tsukoshi Zutsu Yoku ni Narizutsu Arimasu Con l'inizio di questo anno Economicamente pian piano Sto sempre meglio Che cacchio era? Jiken Kara Ishukan ga Tachi Gein na Do ga Akira kani Narizutsu aru È passata una settimana Dal caso Dal caso Più che incidente Piano piano Si stanno chiarendo Si stanno chiarendo I motivi Eccetera eccetera Saikin kuruma ni Kiomi non hai wakamono ga Fue Tsutsu aru Ultimamente I giovani Che non hanno interesse Nelle macchine Stanno sempre Pian piano stanno crescendo Stanno aumentando Ciao Dani De wa de wa A te wa A furia di Kai te wa keshi Keshi wa kai teiru Ucini Kami ga yabureta Scrive e cancella Cancella e scrivi Alla fine il foglio si è rotto A furia di scrivere e cancella Cancella e scrive Il foglio si è rotto Tokyo wa futte wa Yamino Ma Yamino Ma Nishide Akiri shinae tenki Gatsuzuku A Tokyo Piove smette Tutti i giorni Piove smette Smette È un tempo Che non si Il tempo che non si decide Continua C'è un tempo Incerto A wichin shupan wa Atarashi on dash te wa Best seller in atel La ditta C'è la Casa editrice abc Quando fa Ogni libro che tira fuori È sempre un best seller La cosa più importante Innanzitutto Te ko so Jibunno Kotoba dekai Te ko so Aiteni Kimo Cio Tsutawaru Se scrivi La cosa Allora L'importante È che scrivi Con le tue parole All'altra persona I sentimenti verranno Fatti capire Allora Ryori Bangumi Trasmissione Di Roba da mangiare Donna Ryorimo Mazu Sozai E rabi Karadesu Sozai Ga Shinsende Atte Koso Saikono Agio Ikidas Kotoga Dekimasu Quando Per qualsiasi Per qualsiasi tipo Di piatto Prima di tutto Bisogna scegliere Gli ingredienti E l'importante E l'importante Che gli ingredienti Siano freschi In modo tale Da poter Tirare fuori Il sapore Fantastico Buongiorno Buongiorno Massi Sto facendo ripasso Della lezione Cioè Dell'unità 3 E poi facciamo Gli esercizi Così vedo se mi ricordo Già questa qua Non me la ricordo Quando sei giovane Devi affrontare varie sfide Cioè Affronta varie sfide Molto probabilmente Fallirai tante volte Ma L'esperienza L'importante L'esperienza Personale Imparerai tante cose Figa Un poema To yumonoda Veramente Realtata Atarashi Tokimo Areba Kanashi Tokimaru Quando ci sono i momenti felici Ci sono anche i momenti tristi Sore wa Jinse To yumonoda Questa è la vita reale Una merda Arasan wa Kega De Zutto Shia Nider Renai Kedo Ichiban Okinako Ede Oen Ste Kureteiru Sore De Koso Lida To yumonoda Il signor Ara Visto che si è fatto male Non può uscire Alla Partita Però è quello che fa il tifo Con la voce più alta Questo si dice essere un vero leader Zuma Madakodomo Nandakara Annani Okotara Kawaiso La moglie La moglie È solo un bambino Se ti arrabbi così È poverino Otto Che è il marito Kodomo ga Wari Kotosh Tato kiwa Kibishi Shkaru Questo qua Non sapevo io Cioè Non sapevo Kanji però Adesso Cioè Non sapevo Kishkaru Noga Oiano Aijo Toyumo Lodaro Il papà Quando il bambino fa delle cose Quando il bambino fa delle cose brutte Riprenderlo Severamente Dimostra il vero Dimostra Il vero amore Dei genitori Questo qua Il caffè scientifico Non me ne frega niente Esercizi Sì invece Amo Tsumi no naito Korosu nante Yurushigatae Koto da Le persone che uccidono gli innocenti Non faccio fatica a perdonarle Jivun no ike no Jyuni Ienai nante Futsunokuni De arienai Non si può parlare liberamente Non si può dire il proprio pensiero liberamente Nelle normali nazioni È una cosa impossibile Spicci contesto De wa Uuuu No amari Anasunai o Kanari E o asurete Kinchio Questo qua è Kinchio sicuro Anche se non l'ho letto subito Però è Kinchio Kinchio Allora Già del contesto l'ho capito Mentre qua Al concorso di parlato Non so che cazzo di concorso Se ti emozioni troppo Ti dimenticherai Mi sono dimenticato Mi sono dimenticato L'interno del discorso Cioè mi sono dimenticato le parti del discorso Il mio papà è dolce ma quando si parla di soldi è molto severo Questo era Koshudenwa Anche questo non lo riconosco però mi ricordo che era Denwa Quella Koshudenwa Che è la cabina del telefono Ga Nakunari Tsutsugaru Ketai Gatsukaenakunata Tokiwa Hoho Ijonikomaro Vediamo So pronunciare Caso di emergenza Questo è il caso di emergenza Allora Le cabine del telefono pian piano stanno sparendo Però quando non puoi usare il telefono C'è un'emergenza E' un problema Non è vero perché il telefono ha il tasto emergenza Otonashitewa No Ostewa Scusa Spingere Osteiki Ikiwa Oste Yato sono Ushinomushi Sono Ushiwa Harukidasta Spinge e tira Tira e spingi Alla fine quella mucca ha iniziato a camminare Poverina patata No Dove sono andato Komata Tokiniwata Skiyat Koso Ontono Tomodachi Des L'importante è che quando hai Quando hai un problema Vi aiutate a vicenda Questa è la vera amicizia Questo è essere veri amici Jibunno Rieki Questa è la parola che piace ai giapponesi Rieki Okangese Nijan Noga Volanti E to'yumono Da Senza pensare Allora far le cose Senza pensare ai propri guadagni E fare veramente volontariato Quei due sono fidanzati No è impossibile Questo lo dici Zutto Kurushisode Kino Karata Sto proprio male Da ieri Quando mangio vomito Appena mangio vomito Karega Mu Chikoku Mu Keseki Nante Shinji Gatai Lui Non riesco Faccio fatica a credere Che non è mai arrivato Nel ritardo E non è mai stato assente Game Ni Questo è Nechu Nechu Suru Amari Shokuji Osuru Wasu Deteshimata Ero troppo preso a giocare E mi sono dimenticato di mangiare Bravo Karewa Anime No Kotonou Naruto Mega Kagaya No Non è Kagayaku E O Non era Kagayaku Si Kagayaku Kagayaku Asseru Allora Quando si parla di Di anime A lui gli Gli brillano gli occhi Poi A parte che sono andato avanti Ah no Giusto Sono No Che cazzo sono finito No sono qua No Ho fatto anche gli esercizi Sono qua Kagayaku Ok giusto Niente lezione 3 di 2 E poi facciamo gli esercizi Comunque non lo sapevo Non lo sapevo Massi che anche tu facevi il programmatore Tutti i programmatori Tranne me Tranne me Tranne me Tranne me Ah mercoledì sera C'è la presentazione Della Brutta gente Della Playstation Ditemi voi se Volete fare La lezione o meno O se volete cambiare Giorno Per me è uguale A me non cambia Io la presentazione la guardo dopo Però ditemi voi La lezione la faccio per voi Allora A nishiro B nishiro Sia che fai A che B Sei un coglione Oia nishiro Tomodachi nishiro Minnaga Kekoni Antaista Per me settimana prossima Si può fare quando vuoi Ok Eh sentiamo Seba allora Sentiamo magari Dopo se passa Seba O oggi pomeriggio Dovrei vederlo Voleva fare anche la La cosa lì sul PHP Però io veramente Non sto scherzando Volevo imparare a fare il sito Però mi fate Lo faccio io No io lo volevo fare io Cioè nel senso Sì Mi fa piacere se me lo fa lui Però non imparo niente Volevo imparare anche qualcosa Perché diciamo Beh le basi marce Ce le ho E poi è normale Uso dei programmi Del paleolitico Le cose sono cambiate Però se già mi inizia a dire Usi questo programma Il linguaggio E questo qua Bene o male Me lo studio Non dovrei Far tanta fatica Però Poi magari Non ci capisco un cazzo Vediamo se riusciamo A farne uno semplice Passo passo Sì sì Partiamo dalle basi Per poi in piano Magari mi spiegate Come si fa le robe Allora Cioè non è che ho fretta E lo voglio domani Cioè è una cosa che volevo fare Tanto mentre sto studiando Posso fare anche quello Cici oia nishiro Io no di sicuro Io no di sicuro Bene Cici oia nishiro A oia nishiro Oia ni wa I ito koto I te o ito ga io Te lo spiegherà Sebastiano Sì 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 Me l'ha detto Sia che Però non sapevo che Facceva quella roba lì C'è anche un altro mio amico Che è bravo Però non c'ho voglia di spiegarmi Più che non ha voglia di spiegarmi È sempre in giro a trote Quindi Allora Sia che si tratta di tuo papà Che si tratta di tua mamma Ai genitori È meglio se almeno Gli dici qualcosa Sia che lo compri Che non lo compri Almeno una volta Guardiamo il prezzo Ni sotte Se segui il fiume andando dritto È la stazione Se segui il fiume andando dritto Qui la linea della strada In linea retta A sinistra Troverà il ristorante cinese Ito ga tak san irune Dare ka iu mena ito de Mo iru no kana dare Il famoso dare C'è tanta gente Ci sarà qualcuno Per questo è dare ka E qualcuno dare chi Ci sarà qualcuno di famoso Doroni sotte kei kangatatte irukara Doko ka no kuni no Erai ito janai Allora lungo la strada Ci sono i poliziotti in piedi Sarà una persona importante Di qualche parte Doko ka è qualche parte Noi avevamo fatto Doko e basta che è dove Doko ka è da qualche parte Kaneru Questo mi ti confonde tantissimo Perché è positivo ma è negativo Cioè la cosa è positiva Ma devi dirlo è negativo Non poter fare I koki de ku ka Shinkansen de ku ka Mada kime kane teiro Non ho ancora deciso Se andare con lo shinkansen O andare con l'aereo Annai bun O namaya gojusho kakarete inai merude O toya wase ni wa okotai shikanemas Vabbè la scritta della guida Allora le mail che non hanno scritto Indirizzo o nome eccetera eccetera Non possiamo rispondere alla vostra richiesta Il biglietto della banda bcd che esce domani Che verrà in vendita domani Se faccio la coda un'ora prima Posso comprarlo Quello non glielo posso Non lo so Perché è un biglietto molto richiesto Naikoto monae Potrebbe esserci una Invece questo è negativo Ma significa potrebbe avere una possibilità Mi prendi per il culo Vabbè L'avversario è forte Ma se ce la mettiamo tutta Potremmo vincere Esatto Non fa una piega Potresti anche usare la padella Ma se hai la pentola È meglio che usi la pentola Ci sta Non ti hanno mai detto che è pericoloso Le ragazze che vanno in viaggio da sole Certo Ma non è che non capisco Quello che mi dicono i miei genitori Penso Penso che si preoccupano Un po' troppo E basta Un pochino troppo Teo Shimono da Vorrei questa cosa Lo vorrei Adesso Cacchio Vorrei che lui si impegnasse di più Le parole del papà Le parole del babbo Sei già terzo anno delle superiori Smettila di giocare solo a pallone No smettila di Smettila di fare solo pallone Vorrei veramente che studiassi un pochetto di più Gasoline Kionenkara Zutto Takaine Mosukoshi Yasukunate O Shimono Danè La benzina dall'anno scorso Diventa sempre più costosa Sì Vorrei Veramente Che poi Tanto in Giappone potrebbe succedere qua mai Vorrei veramente che diventasse un pochino più economica Dake no koto waru Visto che Ryugakuo sta Dake no koto wa ate Qua mi sono evidenziato perché io scrivo ga sempre Ego wa umai Visto che lui Allora Visto che Ha fatto Ha studiato all'estero E bravo in inglese Kore wa italia Sei no kutsu Juman en date Edemo Takai dake no koto wa ate Katachimo Hiromo sugokui Questa è una scarpa prodotta in Italia Costa 100.000 yen E Però Visto che è costosa Sia il modello che il colore Sono molto belli Balle Quello nel 1990 Okisan Kanada no ryugaku Ste Ita Dake no koto wa ate Ego ga umai Il signora Oki Visto che ha studiato Ha studiato Cioè Visto che ha studiato All'estero In Canada E bravo in inglese Te misero Ti faccio vedere io Faccia di merda Kondo kosoka narazu Yushos te misero La prossima volta Sicuramente Vincerò Non succederà mai Samba te Do yufuni Odorundeska Ciotto Do temisete Kudasai La samba La samba Come si balla Fammi un po' vedere Vabbè Kondo no shiai ni wa Zittai go kakus Te misero io Al prossimo incontro Dobbiamo per forza Qualificarci O lo prendiamo Uo keikini A causa di Questo è strano Perché a volte si usa A volte no Infatti ieri Faccio degli esempi Con Mako E nessuno di lui Capiva quando usarlo Quando no Lei mi diceva Che keikini Si usa quando decido io Però già questa parte qua Non l'ho decisa io Cioè questa frase Quindi non torna Koreo keikini Tatemono kanri ni Motto Cui suru yoni Nissimas Questo sono io che parlo A causa di questo Ho detto Al responsabile Del palazzo Di fare più attenzione Shinkansen no eki Gadekita no Uo keikini Irona Mi segadekite Eki shuenga Nigiaka Ninarimasta Allora A causa Della Di essere riusciti A fare la stazione Del treno veloce Sono nati Tanti negozi E i dintorni Della stazione Sono diventati Più pieni di vita Mo sugu tabacco Ne agari Ninarunode Koreo keikini E meru kotonishta Perché parla di se stesso Subito il prezzo Delle sigarette Si alzerà Visto che subito Il prezzo delle sigarette Si alzerà A causa di questo Ho deciso di smettere Di fumare 1 Do yobi wa Ame ga furi son Andesho Umi nishiro Yama nishiro Tenki ga waro katara Tanoshiku nae kara Eiga nishinae Do yobi Sembra che pioverà Sia che vai al mare O in montagna Se il tempo è brutto Non ti diverti Quindi andiamo a vedere Al cinema Ma vacci da solo Al cinema Cazzo di da me Man shou wa Questo cos'è Man shou wa Oritsu Questo è legge Dekimera Kenchiku Questo era Kijou Mi sembra Adesso provo a scriverlo Ma me lo sto inventando Non è vero Non me lo sto inventando Ma me lo ricordo così Kijou Non è Kijou 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 Non è la Kijou Ah Kijou 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 Quando lo scrivo Me lo scrive Ma poi Kijou Kijou Cerco che dovrebbe essere La regola base Aspetta che Cerco giusto per la pronuncia Perché Kijou Sicuramente No Kijou No Kijou 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 Tanto è già segnato Però me lo scrivo Kijou 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 Non è questo è importante I soldi Non è che non voglio pagare Però Non voglio usare i soldi Per comprare questa cosa Nei politici vorrei che capissero di più i sentimenti del popolo, dei cittadini Vuole usare un rene Vuole usare un rene No non vuole usare i soldi Per pagare basta Gokaku stano Gokaku stano Sugoi Sanne in kanta Ien datta Kedo Ben kiosta Da kei no kotogo Attane Sei stato promosso Fantastico E' stato difficile per tre anni Ma alla fine Ha dato i suoi frutti Studiare Questo qua E' Tei o Niwa Marco questo qua è Niwa? E Niwa on kekatei Famiglia Ok Niwa o kaki Kakijun Cos'è che era? Kakijun Adesso sto facendo così Kakijun Questa qua è un'altra parte Sì Kakijun Che sono i segni Il numero dei segni O il modo come si scrive il kanji Kakijun Il senso come scrivere il kanji di giardino E' un po' difficile Lo scrivo io alla lavagna Te lo faccio vedere scritto alla lavagna E quindi prova a scriverlo allo stesso modo Tsutome teita kaisaga Kaisan stano wo kekini Dokuritsu Surukotonishimasta La ditta dove lavoravo si è sciolta A causa che la ditta Allora A causa che la ditta dove lavoravo si è sciolta Ho deciso di diventare indipendente Allora Mori san wa Ma qua non c'è un pezzo Ah no gli esercizi Non manca niente Non manca il mio cervello Mori san wa Maishu tennis Osterudake Nokoto wa te Adaga Iakete irune Il signor foresta Visto che Grazie a fare tennis tutti i giorni Visto che fa tennis tutte le settimane Scusate Si è abbronzato Va beh Taiyo ko Ko Atsuden nishiro Furio Atsuden nishiro Shizen no energikara Denki o tsukute irundes Sia che Allora Sia che si tratta di energia solare O che si tratta di energia della forza del vento Stanno producendo energia Stanno producendo elettricità Da energia della natura Okiaksama gokiboni sotte o ea sagashita shimasu Mio caro cliente Come lei voleva Cioè come lei desiderava Le ho cercato la stanza Classico a Anmari Kikanai Kikanai Koto Monai Kedo Sonna Niwa Nio Onno Pops Ga Oikana Non ascolti molto la musica classica Non è che non l'ascolto Non così tanto Ascolto di più la musica Pops Giapponasa Carlos Che si è fatto male E' proprio un dolore per il team Lui è praticamente metà della forza del team Bene Vogliamo che presto torni in forma Non perché abbiamo bisogno di lui E siamo delle merde umane No Ok Perché gli vogliamo bene E adesso facciamo gli eserciazzi Dell'unità 3 Che sono qua No Sono qua No Che cazzo sono qua Eccolo il campione Chi è il campione? E' Carlos Adesso Ah niente Qua sono 16 frasi in allegria Eserciazzi Unità 3 Ok Salvo E facciamo gli esercizi Vediamo se mi ricordo qualcosa di quello che ho appena letto Uno Yoshi 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 Yamamoto Yoshi Z-tai Kono Daigaku Daigaku Ni Goukaku 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 No Goukaku E dai Ce la faccio a scrivere Goukaku Goukaku Shi Stemisero Stemisero Allora Che cazzo ha scritto Stemisero Allora Bene Vi farò vedere Che mi Che passerò All'università Che passerò sicuramente Che sarà promosso sicuramente In questa università Importante essere convinti nella vita Stemisero Questo zoo è tipo Punto esclamativo Tipo io ho detto in un modo un po' Due Whisky Cos'è whisky? Non capisco Uisuki Whisky Cos'è whisky? Whisky Nishiro Sia che sia whisky Che sia banane Wine Wine Cos'è wine? Non capisco Nishiro Sia che sia whisky Che wine Nionde Wa No Nionde 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 Giappone Nionde Tsukuta Tsukuta Mono Le cose fatte in Giappone Wa Iappari Oishikunai No Che cattive Iappari Oishikunai Ne Allora Sia che si tratta di whisky Che di vino Quelli fatti in Giappone Fanno cagare Praticamente Sono le parole giapponesi Per lemon soda E orange soda Praticamente Sì perché whisky E wine Hanno lo stesso sapore In Giappone Allora Tre Futari no anashi Futari no anashi O Kai te iru Kite iru To Do Chiragata Dashi Wa Kime 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 gatai Vabbè Kime gatai Allora Tre Futari 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 è due Due persone si dice futari Questo era l'altro esempio di questo kanji Che si pronunciare Futari Però ve lo spiego Quando iniziamo a contare i bambini La prima cosa che ci fanno contare Sono le mele e i bambini Futari no anashi Dal discorso dei due Futari no anashi Wo Kite Iru To Doci Docira Quale dei due Docira Ga Tadashi Ha ragione Tadashi Quale dei due è giusto To Wa Kime E Gatai Kime Gatai Faccio fatica a decidere Chi dei due ha ragione Questo kanji è importante Copia Questo kanji qua L'hai mai visto Massi Usato anche in altri modi Praticamente questo kanji qua Si Lo usano anche tipo in prigione O quando Per contare Praticamente uno Due Tre Quattro Cinque Ma mai come viene usato Questo qua significa giusto Tadashi Però lo usano per contare Se tu Non lo so Moi non mi ricordo Dov'è che l'ho visto l'ultima volta Avevo visto tipo uno Che era in prigione Per contare I giorni che passavano C'era tutta la stanza Piena di sti cosi qua Perché conti Uno Due Tre Quattro Cinque E' fatto da cinque simboli Quindi lo usano per contare Anche Poi Era una cosa così divertente Se vi capita Che vedete uno Che conta sui muri Che vedete quei segnini Sta contando Allora Ngusha Shiken Ngusha Shiken E' l'esame per entrare Nell'azienda In teoria Ni Ocita No Ocita Dovrebbe essere così Ocita Questo come si legge Eiga No Eicaiwa Eicaiwa si legge No benkyo Dopo chiediamo a Marco Quando esce dal bagno Benkyo Il kanji è uscito Però non so se si pronuncia così A G metà Visto che Sono stato Visto che Non ho passato L'ammissione All'esame Per entrare Nell'azienda Ho iniziato A studiare Il parlato In inglese In conversazione inglese Si dice Eigaiwa In che suona di merda Comunque si dice Allora Questa è la risposta Nishiro Nishiro C'è la risposta La mia Poi se è giusto No Lo scopriremo Solo vivendo 3 qua abbiamo detto Che era Kimegatai Qua invece Per colpa Che Non sono stato ammesso Al New Shashikè Dovrebbe essere All'azienda Proviamo a vedere Una stronzà Perché questo è il kanji Di azienda Di entrare in azienda Perché ti fanno L'esame Cioè L'esame di ammissione Ho deciso di andare a fare Conversazione in inglese Bah Vabbè Di andare a studiare Conversazione inglese Vabbè Comunque Scriviamo Ricominciamo Oggi non posso restare Seduto in disparte Ne arte Ne parte Non sono capace Mamma mia Che canzone Ti ho tirato fuori Mica banane Allora Dove sono? Sono qua La penna Dov'è? Qua Allora Yoshi Allora Unità 3 Comunque L'altro ripasso Che avevo fatto Dei kanji Non l'ho più trovato Sì La cantavano A Yokohama Mi sembra Allora 1 Yoshi Yoshi Yamamoto Yoshi Zetai Sicuramente Zetai Zetsume Zetai Sicuramente Quando dicono Zetai Non accade mai Zetai Zetai non è Ni No Zetai Kono Daigaku Kono Daigaku Questa università Daigaku Ni Gokaku Gokaku Essere Ammesso Qualificato Promosso A mille significati Gokaku Zetai Zetai Mi seruzzo Mi farò vedere Che sicuramente Verrò Promosso In questa università Bravo Zetai Mi Mi Se Ma che cazzo Mi zero Perché non me lo dite Che è scritto Mi zero Mize ma mai pensavo che eravate miei amici non mi correggete neanche allora due whisky whisky e non lo so non capisco cosa sia whisky whisky nishiro sia che sia whisky wine nishiro la mia bevanda preferita in giappone è il pokari sweet whisky nishiro wine nishiro nionde in giappone nionde tsukutamono quello fatto in giappone tutto quello che viene fatto in giappone fa cacare come pensavo giappari giappari o iari giappari giappari non so più scrivere pa giappari oishikunai come pensavo fa cacare oishikunai oishikunai oishi è buono oishikunai non è buono allora sia che sia che si tratta di whisky o di vino quello prodotto in giappone come pensavo fa schifo cioè fa schifo non è buono tre futari è due di futari no anashi il discorso dei due wo kite iruto ascoltando il discorso di tutti e due dei due kite iruto si ascolta il discorso dei due quale chi dei due docira quale ha ragione non lo so docira tada shi faccio fatica a decidere chi ha ragione facile hanno torto tutti e due tada shi e to wa kime e gattai kime e gattai kime e gattai 4 njusha 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 shiken l'esame di ammissione all'azienda njusha 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 oshita oshita è il contrario di gohkaku significa non essere ammesso aver fallito o città o keiki visto che non sono stato cioè ho failato all'esame di ammissione dell'azienda a causa di questo ho deciso di andare a fare il barman ho deciso di andare in discoteca e keiki questo qua è il kanji di eigo però è solo ei poi l'altro invece è kai che è incontro e kaiwa è conversazione questo è discorso quindi e kaiwa è significa discorso in inglese no benkyo benkyo è studiare nel primo libro lo vedrete mille volte cioè mille volte ve lo faranno scrivere all'infinito benkyo e poi non ve lo ricorderete mai più però venkyo wo hagi metà ho iniziato a studiare conversazione in inglese hagi metà ok poi io 5 mio po no con aoi umi cara gaiate chita po nio po nio po nio allora senkyo no ense tsu de ittako to wo jiko shi jiko te o shimono da sì no ma quello che sto dicendo ma senkyo elezioni e ense tsu che cazzo è? enzetsu e a questo nome c'è scritto anche sotto eh perché è nuova questa cosa non lo sapevo ma è comunque enzetsu si per farsi votare esatto enzetsu questo me lo scrivo a parte che anche il libro me l'ha messo come cosa nuova per enzetsu lo stesso di setsumei? mamma mia ma le sa tutte eh questo qua è quello di no che cazzo ho scritto non è quello di kanji è completamente il primo il secondo l'ho beccato il primo me lo sono auto inventato enzetsu no zetsu è quello di setsume sì sì è giusto è giusto però pensavo che la prima parte era quella di kanji invece ho failato no non sto facendo il ganzo sto tentando di ricordarmi le cose pirla fai il ganzo è così che si studia se non pensi a cioè quando tu scrivi un kanji devi pensare agli altri tipo questo qua senkyo perché l'ho detto giusto perché so dire sen shu è atleta vedi che è lo stesso il kanji il primo se io so leggere questo mi viene in mente anche questo non lo sapevo leggere però beh mica tanto atleta e lezioni non è molto uguale però sì tu pensi di essere bello figo gu no io sono bello figo gu ma non lo faccio hai capito lo sono e basta è diverso allora senchio no ah è mercoledì c'è la presentazione di della play e pure è modesto esatto è modesto anche vedi che amassi lo sa è in sezzo di itta itta è in sezzo di itta koto eh gico si tra poco ti metterai la pelata di oro ancora fai il bravo no ce l'ho con con Dani sai che poi arriva gente che si offende non è più venuto diabolix da quando hai scritto la cazzata dai fai perdere gli amici oh shi usa un'altra cosa una cosa che posso avere solo io tipo il pisello lungo oh shi mono da allora ehm ehm allora senchio enzetsu de itta questo non è itta questo qua è itta vedete la cosa dei kanji itta e significa anche andare ma in questo caso è detto ehm itta koto qua mancano i pezzi eh gico steoshi allora vorrei che quello che ha detto durante le lezioni lo faccia in realtà giusto? ma con gico suro è fare in realtà no? sì che lo faccia veramente invece di dire solo un sacco di cazzate sei amenotame per colpa della pioggia amenotame ehm senro no perché non esce doro perché sono stronzo doro la strada no doro è senza la u no non so più scrivere strada è così doro ehm wa eh giutai questo qua questa parola mille volte l'avrò scritta mille volte non me la ricordo è traffico giutai non arriva la nette eh shi zutsu arusoda eh è che non cioè per me non suona come traffico hai capito? giutai me lo immagino come se fosse non lo so gamba d'acciaio per esempio mi viene in mente ma non mi viene in mente non mi viene in mente il cioè non mi sembra che sia giutai e keitai sono simili hai visto? solo che ha il pezzo di acqua davanti vedi faccio sempre questo allenamento qua ma non perché voglio fare il figo per ricordarmi più canti possibile eh ma lui eh Dani dice che voglio fare il figo mi tratta male invece di dirmi forza sei forte dai sei bravo mi prende per il cubo allora eh giutai shi zutsu arusoda allora amenotame eh d'oro già qua scusa c'è un buco d'oro 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 già che cazzo è d'oro a giutai shi zutsu arusoda per colpa della pioggia eh la strada sembra che pian piano si riempia di traffico o shigatai o shigatai ma koduchi ah no non è shigatai faccio fatica a pensare che per la pioggia la strada sia diventata no però c'è scritto soda atteru atteru amenotame d'oro wa jutai shi zutsu arusoda sembra però si ma per la pioggia c'è traffico mi sembra strano si ma per la pioggia per te a me per la pioggia non mi dà fastidio infatti volevo mettere shigatai perché faccio fatica a pensare che per la pioggia la strada sia sia piena di traffico però c'è scritto soda qua sembra se ormai tra un'ora ti scorderai pure che sei sposato quello mi sono già dimenticato adesso allora sette kono yona e conan questo era conan vediamo kono yona comunque mi tira fuori delle parole che ho usato tipo una volta però me le ricordo non tutte conan conan il detective con gli occhiali che si sposa no non è conan cacchio vedi non me le ricordo no è comaru ko allora non è questo è quello di muzukashi adesso baro e poi vado a cercare come si pronuncia non mi esce però esce così conan lol vabbè allora scriviamo komaru il kanji è quello di komaru e l'altro è muzukashi ok questi due qua però come si pronunciava scusa cioè vedi tipo questo lo so scrivere ma non mi ricordo come si pronuncia conan vaffanculo c'è una n e mezzo era con nan non conan con nan era così vabbè adesso me lo scrivo comunque è difficile conan me lo ricordavo senza la n conan nashigoto questo lavoro difficile guare 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 noi guare 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 no cicara con le nostre forze no cicara da che cicara è forza da che solo con la nostra forza cicara da che dove cazzo mi sono dove sciori sciori risolvere e non ci sto sciori 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 tutto l'anno eh fiori scienai in questo caso dovrebbe essere scienai allora questo difficile lavoro con solo le nostre forze non possiamo farlo e l'altra risposta era riusciremo a farlo però abbiamo già usato riusciremo a farlo qua su potrebbe essere guare 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 però c'è un qua e quindi c'è la negazione perché c'è il qua se non c'era il qua avrei messo ce l'avremo fatta invece non c'è il qua però c'è no però no ma da che da ma ma a me sembrano giusto anche questa mi sembrano giusti tutti due questo difficile lavoro lo riusciremo a fare solo con le nostre forze non ha senso anche c'è questo il problema io quando sbaglio sbaglio che per me il senso in italiano giusto in giapponese magari no ma perché non si usa quello lo scopriremo solo vivendo però per me ha senso 8 shigoto nanashi no tokiwa shizuka da keredo quando si parla di lavoro sta zitto il goto no a nasci quando si parla di lavoro no tokiwa shizuka da keredo quando si parla di lavoro sta zitto anime no kototo naruto ma quando si parla di cartone animati gli si rizza la pava kyuni improvvisamente kyuni 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 sono perso kyuni genki ninarunda che cazzo significa quando si parla di cartone animati diventa bello felice bello bello energetico acqua è tranquillo non è usato come zitto ma come tranquillo quando sei qua quando si parla di lavoro è tranquillo ma quando si tratta di anime diventa bello pimpante bravo allora no kototo no kototo no kototo no kototo de perosetsume ste greru no no è quello che ti ho chiesto perché non è ste misero shori o ste misero shori o ste misero watashi tachi no chikarade mh eh però shori o shienai dovevo scegliere tra shori o shienai o shori ste misero per me sono tutti i due giusti con o yona con non si noto questo lavoro difficile perché c'è difficile eh però per questo lavoro difficile con le nostre forze ce la faremo con solo le nostre forze no galvare ma invece in italiano e visto che è difficile ce la faremo se capito no no è vero allora questo questo tipo di lavoro così difficile con le nostre forze riusciremo a farlo sta benissimo non sta male in italiano ma co dice visto che all'inizio la frase è negativa seba mi scrive in chat ehm visto che la frase è negativa si mette negativo che l'ho fatto però boh in italiano può essere anche visto nell'altro modo va beh comunque andiamo avanti se non finiremo più eh 4 5 6 7 non mi ricordo che numero sei arrivato qua non ho scritto la risposta ste o shimono da ok ehm allora 5 ehm questo era senchio e lezione giurenja e ienno sen shita cio giurenja 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 ioryu sentai giurenja ehm ehm questo ensetsu me lo scrivo perché non lo sapevo ensetsu è quello di enso ecco dove l'avevo visto era quello di enso ensetsu vedi che piano piano poi ci arrivo prima o poi me li ricordo ensetsu in teoria dovremmo saperlo leggere tutto perché en è quello di enso de itta le cose che avete detto durante le lezioni vorrei che le fate nella realtà koto gis ehm gico gico è fare ehm farle praticamente gico romaco si offende ste o shi ste o shi ste o shi monoda poi sei ame ame e pioggia kame ame a non è vero non c'è troncazzo ehm ame notame per la pioggia mi si sono bagnate le mutande d'oro d'oro e strada d'oro d'oro wa jutai jutai è traffico trafficose trafficante jutai 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 qua c'è un segno troppo lungo però vabbè lo occupiamo così jutai shi zutsu aru soda sembra che per la pioggia si crei sempre più traffico bene sembra che per la allora la strada per la pioggia sembra che pian piano si riempia di traffico sette cono jona e connan questo me lo scrivo che l'ho sbagliato ah aspetta me lo segno qua che ho letto co invece con connan vabbè li segno tutti e due però lo sapevo che era difficile però non mi ricordavo con la n cono dove cacchio sono cono yona questo tipo di lavoro difficile cono yona connan questo è comaru questo invece è lo scarico del cesso perché Marco deve dire lo scarico del cesso quando stiamo facendo lezioni perché fa chic con 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 le nostre forze e shori shori a risolvere shori 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 tutto la 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 le e quindi lo ma il 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 allora questo tipo di lavoro così difficile con le sole nostre vorse non possiamo farlo siete degli sfigati 8 shigoto no koto quando si parla di lavoro è tranquillo e silenzioso che significa che non gliene può fregare de meno shigoto no anashi noto chi quando parli di lavoro oa shizuka è silenzioso shizuka vado a vivere in campagna shizuka da keredo sono silenzio è silenzioso ma quando si parla di anime gli si rizza la fava anime no koto to naruto naruto yuni all'improvviso diventa bello genki genki gambare genki gambare genki era non so se ve lo ricordate gambare genki era quello della box quello che aveva tipo una m era vestito di bianco con una m che non ho mai visto il finale com'è che si chiamava in italiano cacchio sai che non me lo ricordo ah mi si è addormentato il piede adesso lo cerco mi è venuto il dubbio gambare genki però non so se mi esce in italiano erano uno della box forza sugar si chiamava in italiano forza sugar esatto non l'ho mai visto il finale di quello lì gambare genki invece l'anime che mi piace di più di box a parte ashta no joe a g-hip è bellissimo se non l'avete mai visto dovete guardarlo ah peccato che non l'ho mai finito kyuni genki ninaru invece l'altro questo qua era genki gambare genki invece l'altro si chiamava genki ninare genki ninare era quello cicciottone che giocava a golf e da noi si chiamava cerchiamo genki ninare non esce neanche ah non esce tutti in campo collotti esatto quello lì tutti in campo collotti cioè come cacchio fate a chiamarlo con un di merda bravo bravo vedo che tu mi capisci massi tu sì che mi vuoi bene non mia moglie anime incontro narkyu ni genki ni narunda ma come vuole bene solo a tora senti che canta la canzone di tora gli canta la canzone a tora hai stero e ti amo invece quando parla con me non mi caga neanche allora guardate che bevo un attimo l'acqua e arrivo genki genki a te si nai genki 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 non era cumonino re cumonino re ma come si inventa le parole quando canta e poi cambia completamente il ritmo della canzone infatti non mi confondo allora su curamburu egg quella cos'era? quella è un'altra canzone ma chiamato uovo strapazzato non mi viene in mente guardate che bevo l'acqua vai to 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 ancora aaaah in in grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti no quando te l'ho detto vediamo chi capisce chi è questo è un po' sporco e incollato perché mia moglie me li mette sopra la cucina perché non li vuole vedere ma a me piacciono chi è che capisce chi è questo e ce li ho tutti ho tutti i personaggi della serie sei te da piccolo? sei te da piccolo quasi? vi aiuto, vi faccio vedere i capelli no, le sto scrivendo grazie a tutti per aver visto il nome non me lo ricordo si chiama Agimeningen Gon in italiano com'è che era chiamato? in italiano era chiamato Jatrus il primo uomo Jatrus era quello guarda c'è la scatola questa qua è quello che ho io confermo era bellissimo io ho tutti i personaggi c'ho anche l'elefante c'ho la mamma il papà la scimmia c'è la talpa però sono sopra là non posso farvi vedere gli altri sono incollati vi faccio vedere giusto l'elefante che è a parte che è sporco però è bello è bellissimo poi questo qua è quello piccolo e c'ho anche quello gigante vedi che cose belle compravo in Giappone mettilo nella lista intanto sarà tutto tuo figlio mio allora nooo ho sporcato il foglio con Agimeningen Gon che era sporco va c'è ancora ci sono i piedi disegnati sul foglio andiamo avanti nove e che sfiga nove e settimana scorsa e settimana scorsa e settimana scorsa oa zen zen che significa per niente zen zen ame ame pioggia ga furanacatta ame ga delle cacchie sono perso mamma ho perso l'aereo furanacatta furanacatta non ha piovuto fino a settimana scorsa che do ma aratiamo konshu questa settimana konshu konshu wa mai nici tutti i giorni mai nici ame ma questa settimana piove tutti i giorni visto che ti lamentavi adesso rompi le balle eh ma la risposta dov'è non c'è una risposta ah sono due shogunite non ci possiamo fare niente shogunite niente non ci si può fare nulla eh sorega sorega quello sorega eh tsuyu tsuyu è la stagione delle piozze tsuyu eh tsuyu toyu monoda non ci possiamo fare niente questo si dice essere la stagione delle piozze penso che sia giusto però lo scopriremo dopo 10 c'è la stagione delle piozze che è la stagione delle piozze che è la stagione delle piozze non lo sapevo ma non mi viene in mente adesso o-shinga hi-tsu-yo c'è bisogno hi-tsu-yo è bisogno de-ari o-shing cos'è che era non me lo ricordo questo qua era quello di diago che però significa non mi viene in mente no me lo segno però cioè lo so me lo ricordo so come si pronuncia ma non mi ricordo il significato in italiano c'è nel senso lo so ma non mi viene una parola politica direzione ok sono o-shing-ni-so-te o-kona-wa-ru-be-ki-de-a-ru qua inteso come politica aziendale o-shing me lo segno comunque anche se lo sapevo però perché l'abbiamo fatto due o tre lezioni fa però non mi veniva in mente cioè sapevo il significato ma mi veniva in mente la parola in italiano comunque o-shing-ni-so-te o-shing ni-so-te seguendo le linee le linee la linea della politica o-kona-wa-re-ru o-kona-wa-re-ru-be-ki be-ki e-de-a-ru-be-ki-so-te allora provo a cercare questa parola qua o l'ho tradotta sbagliata che è probabile perché non suona giusto bene bene ok per gestire allora per gestire l'azienda per gestire l'azienda bisogna avere delle una politica base e in base a questa politica bisogna muoversi e bisogna seguire queste linee di politica allora 12 no 11 dopo il 10 di solito c'è l'11 Tanaka che è tornato finalmente che da tanto che non ti vedevo no non è vero Muzukashi Mondai Muzukashi Mondai domande difficili Mondai Muzukashi Mondai Uo Ito No Cicara Carizuni senza farsi aiutare degli altri Carizuni Jibun Jibun è se stesso Jibun no Cicara con le proprie forze De Kai Ketsu Kai Ketsu è risolvere Zubato San Jio Zubato Kai Ketsu Tomoyo 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 Mitekure Konoyuki Ore wa Kai Ketsu Zubato San Adesso sapete perché conosco quel kanji Allora Kai Ketsu De Kiru Yoni Ninate Koso Ninate Koso Dai Otona Otona è adulto Otona Da To Ier Allora Allora Risolvere i problemi Ma che canzone è? Cercalo se è il coraggio Ve l'avevo già fatto vedere però non avevate sentito la canzone Cercalo se è il coraggio e vedrai che stavo cantando quella canzone Allora Allora I problemi di Allora La cosa importante è riuscire a risolvere con le proprie forze i problemi difficili senza prendere senza avere aiuto da senza avere aiuto da altri questo si dice si dice essere adulti no no è quello è l'altro è quello con la chitarra che che frusta la gente vestito di rosso è il migliore in tutte le cose è quello che fa tu puoi fare qualsiasi cosa che lui è più forte Allora che lui ha fatto Kaiketsu Zubato Kamen Rider V-Free e il tipo bianco dei Gorenja il primo di Sentai il mio idolo Allora 12 Musuka Shen no l'ho già fatto Tanaka Sanwa il signor campagna in mezzo Tanaka Sanwa quindi Tanaka San lo sapete leggere no Tanaka Sanwa Care Cara a lui Care Cara Care Cara Yubiwa Yubiwa no no l'abbiamo fatto quando vi ho spiegato Uomo però non l'abbiamo fatto proprio campagna Yubiwa Uomo Ratte ho preso l'anello da lui Ureshisa no io si è leo ho visto Ureshi e se lo dice Dani potete essere esclusi sicuri Ureshisa no amari dalla felicità amari naki e daste scimato pianto come una gallina naki daste nakidashite simata allora il signor Tanaka da lui ho ricevuto l'anello e dalla felicità ho pianto come una gallina non ho capito perché Ureshisa mi ha messo il kanji però seguiamo quello che dice il libro io ho messo amari vediamo se è giusto qua natte coso e qua sotte mi sotte poi quattordici a parte che sta parola la so leggere mille volte vabbè comunque vabbè tredici no tredici un cacchio scriviamo e poi facciamo le altre nove seng shu seng shu perché seng shu è atleta invece seng shu è la settimana scorsa fino a settimana scorsa me la facevo addosso ma devo ha zeng zeng per niente zeng 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 ame la pioggia amega furanacatta fino a ieri non pioveva per niente amega furanacatta fino a ieri e fino a settimana scorsa non pioveva che do con shu questa settimana gingaman gagagigi gingaman gagagigi gingaman gagagigi gingaman gongshu wa mainichi amedane shoganai te non ci si può fare nulla shoganai o qua manca la u shoganai o non mi scrive nel punto lì shoganai non ci possiamo fare niente shoganai te shoganai 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 dashing z gehe to yumonoda shoganai è la stagione delle piogge eh Mako Mako doci gai sorega tsuyu to yumo lo da sorega tsuyu dakeno koto wa aruyo no penso che sia questo eh però anche perché non mi dà cose buone mi dà solo cose brutte cioè grazie a quello piove una settimana sino no non sento un cazzo vabbè dieci kaisha kaisha e kei hey hey no non ho detto l'h Mako sente l'h quando non la dico quando la dico non la sente siamo a posto Mako cos'è che hai visto ieri Mako ieri ha visto gli osticoli gli osticoli hai detto che c'erano gli osticoli hai detto che c'erano gli osticoli dopo non lo so ma hai detto tu ieri che c'erano gli osticoli quando sei tornata da da Wakako mi hai detto che c'erano gli osticoli bel film eh non lo so vedi che Mako non si ricorda più che ieri dicevo osticolo eh non lo so perché lo dice sei entrata qua dicendo che c'erano gli osticoli Gia eh Itzuyo Say Gio Say Goodbye Issoge QQQQ Go no QQ Go Go Five questo Go Go Five Renskyu Sol Dian Moto Ayaku Renskyu 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 E te Say Gio Say Goodbye Issoge QQQ no Issoge QQQ Sentai Go Go Five ok ce l'ho 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 allora Kaisha Kei Niwa Kion Oshinga Itzuyo de Ari Oshini Sotte Okonao Reware Rew Bikide Aru allora gestire un'azienda bisogna avere delle una una politica base e poi seguire bisogna seguire quella politica molto interessante undici Muzukashi Muzukashi è difficile Muzukashi Muzukashi Mondai problemi difficili Tegumai Isoge Kyukyu Sentai Go Go Faibu Res Kyu Son Dya Motto Ayaku No Chikara Karizuni Senza avere in prestito la forza degli altri Karizuni questo è il verbo di prendere in prestito però se c'è Zuni significa senza prendere in prestito Jibun Jibun è se stesso Say goodbye Jibun No Chikara con le proprie forze de Kaiketsu Kaiketsu Zubato Niente ogni volta che sento Kaiketsu mi esce Zubato dovete perdonare Kaiketsu Kaiketsu Dekiru Dekiru Ioni Nate Koso Otona Otona Adulto Da Toyeru Allora l'importante è riuscire a risolvere con le proprie forze i problemi difficili senza essere aiutati senza essere aiutati questo si dice essere adulti allora 12 Tanaka il signor dentro la campagna Tanaka Sanwa Kare Kara Kare Kara Ah però Tanaka Sanmi sa che qua è una donna perché dice Kare Kara dal suo fidanzato ha ricevuto l'anello Yubiwa Anello Yubiwa Uomo Ratte ha ricevuto l'anello ha ricevuto l'anello da lui dalla felicità Ure Shisa No Amari Naki Naki Daste Naki Naki è piangere quello che mi fa sempre a me Marco mi fa sempre piangere Naki Daste Cimatta mi ha fatto piangere ok 13 Kare W lui Kare W Atarashi 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 nuovo Atarashi questo scrivo così ma è sbagliato invece c'è giusto Teinwo Oboetewa Ito Itowo Kimete Mi Sete Mi Sete Node Perso il senso della frase Mi Sete Node Uetaci Tachi Come si legge questo scusa Oshino Lo scrivo il kanji lo so scrivere ma non mi viene in mente come si fa Non c'è fai Uetaci Olo cerco Il kanji è questo però non mi viene in mente come si chiede Gatto Gatto Temo Ayay Ayay E' più veloce Ma non è questo Allora Questo Sono due parole che non mi ricordo Questo sicuramente E' questa Prodotto a mano Taigao Renjamo Ero Progresso Jotatsu Jotatsu E' questo non me lo scrivo Jotatsu Bianco perché non me lo ricorderò mai Jotatsu Allora E questo qua invece era Tegina Tegina E' trucco Non sapevo che si pronunciava Tegina Tegina Allora Karewa Tarashitejina Oboitewa Ito Oboitewa Ito Kimette Miseter Jotatsu Totemo Ayay Non ho capito Lui impara Allora Lui impara Nuovi trucchi Lui decide Di far vedere Come si imparano Nuovi trucchi E' veloce Progresso E' veloce Ma non ho capito il significato Toschete Dichiru Eh ma Toschete Isho Cavana E' mi Oboite Tendin By Complito Grazie Steffi Per il Foglio Non ho capito Il significato Karewa Tarashitejina Oboitewa Ito Kimete Miseter Il No De Jotatsu Ga Totemo Ayay Non ho capito C'è Ito Kimete Miseter Il No De Azzumete Non Kimete Azzumete Ok Azzumete Miseter Allora Allora Lui Impara Imparando Nuovi Trucchi Sta aumentando Cioè Più persone Si Più persone Arrivano Più lui impara Trucchi Più persone Arrivano E Sta crescendo Molto Velocemente Ok Adesso ci siamo Gio Kokono Tokoro Wa Maizuki Kokono Tokoro Kokono Tokoro In questo posto Maizuki O Maizuki No Maizuki Maizuki Tutti i mesi E Kionen Iori No Kiki Kinen Kinen Kino L'altro Enen No Sakunen Che coglione Che sono Sakunen Sakunen Iori Rispetto all'anno Scorso Uriage Vendita Uriage Uriage Ga Ocite Le vendite Sono scese Ucite Iruode Visto che le vendite Sono calate Rispetto all'anno scorso Allora Adè In questo momento Tutti i mesi Visto che le vendite Sono calate Dall'anno scorso Bonas Odas Kotoa Yakusoku Shkaneru Non posso promettervi Di darvi il bonus Perché No Sì Bonas Bonas È Qualc'è che si chiama Qualc'è che si chiama in italiano Quando raggiungi il budget Che ti danno Incentivo Incentivo Uo Dasu E quindi non posso darvi gli incentivi Dasu Koto Kotoa Yakusoku Yakusoku è promessa Yakusoku Shkaneru Non posso promettervi Che sembra che ve lo promette Ma Attenzione Che Kaneru Significa Non posso Allora Da adesso Tutti i mesi Visto che l'anno scorso Le vendite sono andate male Non posso promettervi Di pagarvi l'incentivo Molto bene Le vendite ne puoi andare Con la risposta E poi abbiamo Le ultime due frasi Quindigi Quindigi Tam San è la prima volta Che ti sento Da dove sei uscito Tam San Signor Tam Tam San Tam San Mi esce No voglio Vai Schrivo Tam E basta Perché Me lo prende come Tamu Potrei mettere un nome Che esce in katakana No Tam San Signor Tam Wa Yasai Verdure Nitsuite Per quello che riguarda Le verdure Questo è Allora Questo lo leggo E Esperienza Per l'ambiente Mette come si dice Dei shiki Proviamo No Ghi shiki No Non era ghi shiki Sto provando tutti Lo scrivo Questo E l'altro E quello di Viene in mente Aia Esperienza Dovrebbe essere Vabbè Controlliamo Che non mi viene in mente Ma ho scoperto Che Kaikezu Zubatto È dello stesso Autore Di Cyborg 009 È rosso E c'è anche La La Che si chiama Il Il Fullar Che svolazza E ti ricordo Che io Conoscenza Vedi che lo sapevo Conoscenza E si dice Chi shiki Fanculo Chi shiki Questo lo so Ogni volta Lo leggo sbagliato Però Sapevo cos'era Ma questo Non so leggere Perché mi viene da dire Chi Perché è quello Di sapere Invece L'altra parola Questo qua C'è Questo qua Ofu Ofu Me lo mette anche il libro Che non Come parola nuova Pan 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 Ofu Ah Ofu Era quello Di abbondante Questo l'avevo fatto Però Yudakana Dovrebbe essere Ofu Vabbè Che si chi no Ofu Se me li segno Tutti due Perché in teoria Dovevo saperli Invece Non Non li riconoscio Ofu Yasa Shisa Oshiru De Arun Sasuga Icinenkan In un anno Icinenkan 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 Gio No Ken Ken Satsu No Gio No Ken Satsu E' giusto No No Sei in ritardo All'angolo We Davis No Ci è un ragazzo Italiano Che sta facendo Live Per le strade Giapponesi Ecco Non contento Per lui Ken 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 Shoo Cosa sbaglio No Giusto Ken Shoo Uo Uketa Uketa da che no koto waru da che chetta da che no koto waru allora il signor tam per quanto riguarda le verdure a una conoscenza abbondante ieri sera ho provato a fare live pensavo che da un momento o l'altro partisse la ventola aspetta in che senso guarda che arrivò i risultati di essersi di aver fatto training sull'agricoltura in un anno hanno dato i loro frutti figa che casino però comunque con il portatile ecco il portatile fare le live è un po dura infatti ho preso il desktop perché il portatile non ce la fa già portati non ce la fa di prendere tutti i portatili più potenti del mondo ma non c'è la rega saikin chikoko suru no yoni natta wa kare no ienokate giutai no sono i canche anche anche nai kotomonai vediamo karewa lui karewa saikin ultimamente inizia a perdere i colpi ma l'ultima frase chikoko e arrivare in ritardo uo suru adesso poi quando finisce finiamo la lezione ti faccio vedere come faccio le live perché mi trovava a caso di comunque appena finito questa frase qua blocco la live su youtube e ti faccio vedere come faccio le come faccio io le live sperando che funziona il programma perché quando faccio la live mi va lo schermo diventa verde non si capisce più cazzo però ti faccio ti faccio vedere velocemente anche a sta frase sempre che non mi si fonda il cervello prima suru yoni ninatta no wa karewa ima no kate te fami katei 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 mi esce karei ho scritto per posto katei ma perché non mi esce il canio me lo scrive giusto per quando schiaccio la sbarra me ne mette un altro katei questo è che cosa non è giutai questo è questo non lo so nika anche non lo so nika anche anche cioè lo so ma non mi viene in mente canche naikoto monaikoto allora dovrebbe essere situazione quando passa un po di tempo inizia a perdere colpi l'età situazione vedi che lo sapevo giochio fanculo giochio lo sapevo adesso me lo scrivo giochio de carenja però se me ne scrivo di fianco poi non imparo anche quali tolgo perché poi non imparo se me ne metto di fianco anche l'altro dove è che l'ho scritto il significato di fianco perché se me ne scrivo di fianco poi vado a leggere qui giochio giochio lo so cioè situazione anche vabbè comunque carewa saikinji koku osuru yoni natano va carewa imano kate giochio nika anche naikoto monaikoto allora e lui ultimamente arriva sempre in ritardo lui potrebbe essere che sia per la che abbia a che fare con la sua situazione familiare di adesso oggi corrono a misano che cosa corrono a fare chi corre bici moto no aspetta allora fatemi scrivere 13 14 15 13 carewa carewa comunque in teoria non puoi andare in giro per tokio e filmare i cosi perché ti denunciano non puoi fare vedere marchi macchine persone per la privacy non puoi però sappiamo che gli italiani fanno ste cose poi sono cazzi loro tegina o boete che vedete anche negli anime robe varie non mettono tipo il mcdonald lo scrivono tipo wak donald perché comunque ci sono i diritti di copyright e va ito o azzumette valentino corre con il casco con la pillola del viagra numero 46 va bene azzumette eh no io le moto non non l'ho mai seguito da quando allora io praticamente mi piacevano le moto fino a quando hanno deciso di fare mettere il casco io ho i capelli lunghi non volevo mettermi il casco allora carewa tarashite gina o boete wa ito o azzumette mi siti e irunode e giotatsu ga totemoyai lui con le imparano imparando nuovi trucchi si accumula sempre più gente e si sta progredendo molto veloce in giugio invece ci è una scena in cui fanno vedere un cartellone con su scritto pepsi si vede che avevano i diritti per farlo pepsi era sponsor e lo sponsor pepsi possono farlo coco no perché ci sono negli anime e come nei telefilm ci sono gli sponsor se voi vedete tipo un computer un telefono con il marchio è perché è lo sponsor eh sì è uno sponsor se è lo sponsor può far vedere ma dubito che questo qua in giro per Tokyo col cellulare in mano l'hanno sponsorizzato per far vedere ai marchi rischia anche di beccarti una denuncia Sakunen non è libero di però un en yori uriage uriage vendita o città è caduta la vendita per terra o citeru e te irunode daniele 95 alex è napoli style alex è napoli style in che senso bonus vabbè tanti all'estero dobbiamo farci sempre conoscere esatto e farle figure di merda da asukoto da asukoto wa yakusoku ma oh oh sentai magirengia ah sì ok kokonotokoro wa maizuki sakunen yori uriage ga o citeru no de bonus da asukoto wa yakusoku kaneru in questo momento visto che tutti i mesi rispetto all'anno scorso stiamo vendendo di meno non posso garantirvi di darvi il bonus grazie che è un pezzo di tam san il signor tam yasai yasai è verdura yasai nizuite per quello che riguarda le verdure ghi no ghi shiki era non me lo ricordo più no cishiki ghi shiki questo non me lo scrivo continuo a sbagliare anche qua giotatsu dello scrivo giotatsu ci c figa ci che lo voglio io con il pronuncio sempre sci ghi shiki ghi shiki ma oh oh sentai ma girenja tabi da te ma girenja questo qua era kofu no oh fu no anche me lo scrivo perché l'ho fatto però non me lo ricordo sentai ma girenja oh fu io invece ho la ventola che fa casino mi si sa che mi si sta spaccando qualcosa ma non riesco a capire cosa si sta rompendo se è la pompa del della cpu o se è qualcosa altro le sto monitorando ma non ho errori e robe varie allora adesso 2000 gradi la cpu non me lo evidenzi potrebbero essere anche i coglioni no ci è un trattore nel pc allora la temperatura è tutto normale non c'è niente a mille gradi però fa tipo come se c'è il motorino che sta morendo allora però vorrei capire cosa sta morendo per cambiarlo invece così non capisco che pezzo dai sono su youtube che mi chiudono il canale i peppini vanna subito quella parola del mio sito grazie sassuga hai un vasco nel pc sì esatto vasco rosso nel pc i cineme go 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 i cinem can scusa non è il cineme sto iniziando ad arrivare veramente di matto nogio vabbè non ci sto nogio è agricoltura kenshu è pratica di agricoltura uo keta per fatto pratica di agricoltura per un anno ha dato i suoi frutti da che no kotoa ha una grande conoscenza di come fare le verdure sono contento per lui 16 karewa lui saikin ultimamente saikin chikoku ritardo chikoku uo suru ritardo yoni lui ultimamente arriva sempre in ritardo nata no karewa lui kare perché karewa due volte siamo sicuri kare no no infatti non c'entrava un cazzo karewa era kare no ima la situazione attuale della famigliare katei katei e famiglia familiare katei 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 potrebbe avere a che fare con la sua situazione familiare attuale anche nai o tomo nai tanto ridi e scherzo sempre due cuore sono passate ok vediamo se ho fatto giusto gli eserciazzi se non li ho fatti giusti sono stronzo basta allora andiamo in fondo siamo già quasi a metà libro ci sono solo 8 lezioni ah no a che metà è libero siamo la 3 beh a 4 siamo a metà oggi mi arrivano le ventole che ventole hai preso poi un'altra cosa importante quando fai le live è l'hard disk se il tuo hard disk è lento droppi allora c'entra l'hard disk 120 millilitri della Corsair che senso millilitri quante ventole ha due o tre ml120 è il modello ah il modello ok allora 3 3 dove cazzo è dovrebbe essere questo qua allora 1A eh però ho chiuso la pagina so stronzo 1A no che cazzo sto guardando 1A temi seru ok poi abbiamo allora AABB allora AABB a te coso no che cazzo sto dicendo nishiro nishiro ok no what no credo sia colpa del pc che non riesce a gestire tutto perché in altre live non droppava mai dopo te lo faccio vedere no dipende dalla risoluzione dalla tua connessione e dal come c'è chi si chiama e dall'hard disk io ho tipo 4 ssd attaccati insieme in raid zero per farli andare veloci che l'avevo fatto per fare le live in 4k però poi youtube non ce la fa quindi cioè youtube te le fa fare ma non ce la fa perché tipo era in ritardo di un minuto da quello che succedeva nella live a quello che vedevano le persone poi alla fine si vedeva bene però la live in sé io uso lssd eh ma un ssd solo è veloce ma non così veloce come pensi però va bene per un 1080 va bene però già che lssd va bene allora poi ho keikini allora mi sono già perso keikini è giusto e gatai è giusto poi 5a 6b aspetta fammi correggere se no mi perdo a b a e arrivo scusa a b a temo in a b tsutsuaru ok a a a e enai e questo è sbagliato 8 kotomo naruto no è giusto ok aspetta è finito più che altro perché mi confondo 9a a b b a b b di nuovo 9a toyumono da che cazzo è ah non l'ho segnato toyumono da poi abbiamo toyumono da nisote ok b te kosso giusto e amari giusto poi b a a b b a a b b e te wa giusto a kaneru è giusto a dakeno kotoharu è giusto e b è naikotomonai vabbè almeno gli esercizi ho fatto i giusti bravo a me stesso ok la lezione finisce qua conto fino a 10 così poi staglio qui il coso perché poi ti faccio vedere quella roba lì ok eh sì però come faccio a fartelo vedere ah perché non posso cioè come faccio a fartelo vedere sono in live aspetta ci provo ti devo far vedere la live della live nella live che faccio la live aspetta ah allora gamu 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 dove cacchio sei non ti trovo non trovo la cartella qua ok allora ti devo fare vabbè prima di tutto salvo il mio file perché non vorrei perderlo ok chiudo eh dove cacchio switcho sull'uno gekirenja questo è il mio desktop riesci da schermo sì 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 infatti questo qua è il mio vecchio gatto vabbè il mio super gattolone allora questo qua vedete all'infinito perché vi sto facendo io uso vabbè xsplit però poi io uso